Grazie a tutti. 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 Sì, a bordo. Sì, a bordo. Rory Bisami, di come che dimenticare il negozio? Io sono il mio mestiere e la placca. E con il negozio è molto facile. Perché ha dato un tempo cortico? Sì, per la mia mamma. La mia mamma? Hai la mia mamma? Non. Non. È un ciancer. E il mio mestiere è la placca per il suo tratamento. Mi ha dato. Però mi ha dimostrato, non? Come ho notato un hombre destructivo. Mi ha dato un abiturbo. Sì, bene. Pagare i dati. Grazie. No problem. No. 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 Ma tanti. No. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.